Amiche mie, amici miei, benvenuti con grande commozione a Planet Art. È tanto che vi li prometto, abbiamo lavorato tanto per averli. Oggi sono ospiti graditissimi, spero da tutti voi, come da tutti noi. Un saluto caro tra l'altro a Chimico Adiova, Nicoletta, Lara, Andrea, Tommaso, Luca, che sono i nostri collaboratori più splendidi, Rimpoccellama naturalmente, che ci ha consentito di avere questi oggetti straordinari. E un saluto caro a tutti voi, veramente a tutti voi che siete il cuore pulsante di questa trasmissione, voi che dal pubblico, voi che con affetto, voi che con giolcezza, voi che a volte tirandomi le orecchie perché sono lento, perché magari ho fatto una cosa che non andava, perché magari gradireste una presentazione differente, meno passionale. Insomma, e altri invece che sono contentissimi di tutto questo, insomma, oggi con grande onore, con grande piacere, lo sapete che io ho una passione sperticata per il gioiello e per il gioiello etnico, e ho avuto anche una galleria, lo sapete perfettamente. E beh, gioielli d'epoca etnici per me sono il massimo della vita proprio, voglio dire, di tutte le merceologie che vi posso far vedere. E oggi ce n'è una degnissima rappresentanza, che spero, se lo vorrete, non sarà l'ultima, ma solo la prima di tante, tante, tante trasmissioni dedicate al gioiello. Però vi devo sentire, però vi voglio forti, però vi voglio importanti. Amici cari, Planet Art, ve lo dico chiaro, parlo della casa madre, non ha mai avuto modo di lavorare il gioiello in modo continuativo. Voi sapete che i nostri magazzini, i nostri grandi magazzini, sono dedicati all'arte, sono dedicati a tutte le espressioni dell'arte, eccoli qua, dall'antiquariato orientale per arrivare a quello occidentale, dal mobile al dipinto, dal dipinto di arte contemporanea a quello di arte moderna, dall'argento appunto agli avori o quel che volete voi. Ma il gioiello non è mai stata una cadenza continuativa, ci sono stati episodi in cui in questi 30 anni Planet Art ha avuto gioielli, ma non è mai stato il concetto. Il gioiello diciamo che l'ho importato io qua dentro, ma non naturalmente alla casa madre, ci tengo, perché il gioiello per me è un must, e so che il mio pubblico televisivo amava averlo. E allora ho combattuto tanto, non combattuto per carità, nel senso che abbiamo veramente lottato per avere begli oggetti, e oggi li abbiamo, dedicati in modo particolare al gioiello etnico di qualità, ed epoca naturalmente, è stata una grande, bellissima, straordinaria immagine. Quindi sono proprio contento di ospitarvi, e naturalmente sapete che tutto sarà presente, sul nostro sito www.planetart.tv, perché sapete anche che il gioiello lo vedete solo in televisione. Planet Art ha concesso l'esclusiva del gioiello alla sua divisione televisiva. Quindi, signori, ne vedremo non delle belle, ma delle stra bellissime. È vero, Andrea? Ecco, bravo, mi conferma anche Andrea, quindi sto tranquillo. Oggi poi è una giornata particolare, in cui veramente le sirene hanno tanto cantato, ma noi siamo rimasti fedeli, il nostro pubblico ci ha tanto aiutati, e quindi veramente sono contento. Hai rischiato di andare alla concorrenza? È stata una dossa offerta, ma non chiediamo di correndere ancora. Io me ne sto tanto bene alla Planet Art, perché devo andare alla Planet Art? Quando la concorrenza verrà alla Planet Art, sarà un piacere servire anche tutti insieme alla concorrenza, certo. Ma, perché sapete che noi abbiamo ottimi rapporti con tanta concorrenza, però la concorrenza deve imparare che Planet Art è nel nostro cuore, quindi lavoriamo tutti insieme, volentieri. È un discorso lungo, non ve lo posso fare per televisione, ma è stata una grande soddisfazione. Vuol dire che lavoriamo bene, vuol dire che ci volete bene, vuol dire che stiamo battendoci bene. Altrimenti questo oggetto non sarebbe qui. Guardate un po' che cos'è. Una eccezionale coppa da vino, cerimoniale naturalmente, in cristallo di rocca, signori, non cristallo di rocca, in blocco unico di cristallo di rocca, con questa equi... Come mi piacerebbe che in questo momento l'amica di... Vabbè, Mariangela, guardi un po', cavallo, lei, che come i grandi imperatori mogul è tutt'uno col concetto del cavallo, guardi che cos'è. Io ogni tanto mi ricordo di tanti amici e tante amiche che sono nel mio cuore, come lo sono tanti nuovi amici e tante nuove amiche. Però, sapete, in 21 anni ne ho conosciute tante di persone e tante oggi, devo dire, che ci ritelefonano, magari erano sparite, non mi vedevano più, magari non avevano seguito altre situazioni, eccetera, e oggi sono di nuovo con noi. Che bello. Signori, guardate che coppa. Una coppa da vino scolpita in un sol blocco a forma di foglia, vedete, a forma floreale, con questo cavallo nascente, straordinario, vedete, bardato, che ne diventa il manico. Oggetti come questo, io vi posso garantire di simili, sono anche repertati e repertoriati al British Museum, tanto per dirne una. ma esistono rappresentazioni di questi oggetti eseguiti in giada, eseguiti in cristallo di rocca, eseguiti in quarzo rosa, eccetera. Questo è in cristallo di rocca, purissimo, quarzoialino di gran qualità, viene offerta, ed è grande, è molto grande, l'avete vista, 9500 euro, periodo mogul, quindi inizi XIX secolo, prima metà XIX secolo, guardate che cos'è. Voi sapete che questa grande dinastia si sposta con un impero infinito dal 1500, più o meno, adesso non ricordo l'anno in cui viene fondata, ma comunque nel 1500, praticamente nel XVI secolo, viene fondata la dinastia mogul in India e poi da lì il grande impero straordinario, sul quale veramente è uno di quegli imperi, non tramonterà mai il sole, ma ne parleremo magari in un insert apposito. Oggi vorrei parlarvi di questo straordinario oggetto, ripeto, a 9500 euro.